Quali saranno le combinazioni di carte più micidiali nel TCG di l'Orkana? Quanti elementi saranno necessari per innescare tali sinergie e sarà possibile fermarle in qualche modo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Con più di 80 carte rivelate al momento, l'Orkana sta andando sempre più a piede spedito verso la rivelazione del set completo, The First Chapter, che finalmente ci mostrerà in tutto il suo splendore ogni elemento a disposizione degli Illuminer che potranno essere utilizzati in partite piene di colpi di scena. Da quando ho iniziato a parlare di l'Orkana qui sul canale, diversi di voi mi hanno chiesto informazioni al riguardo e attraverso una serie di tre video scopriremo in ordine quale prodotto converrà acquistare, i vari colori o inchiostri presenti in questo GCC, cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento troverete la playlist dove potrete recuperarli ed ultimo, ma non per importanza, le primissime sinergie che sono nate grazie agli spoiler mostrati in questi mesi dagli addetti ai lavori che tratteremo quest'oggi. Quindi nel video odierno scopriremo quali saranno le due combinazioni di carte che personalmente reputo più temibili al momento, o meglio, una sola tra esse sarà una sinergia vera e propria di gioco, l'altra rappresenterà più un archetipo di deck, mi spiego meglio. Con solo 84 carte svelate, due in più rispetto alla settimana scorsa, non ho attualmente le armi a disposizione per mostrarvi cose mirabolanti, ma allo stesso tempo questo numero esiguo di elementi mostrati fino ad ora ha dato vita ad una tipologia di deck davvero interessante da provare, ed una sinergia che da sola, se innescata, potrà garantirvi addirittura 10 punti lore in un solo turno. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi, per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante, in questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più, non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora, troverete i link in descrizione, grazie ancora in anticipo, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno queste combinazioni di carte attualmente presenti in l'Orkana, andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dall'archetipo lasciandoci la combo come ciliegina sulla torta, aprendo le danze con lo Stitch Turbo. Questo mazzo avrà come carta cardine Stitch Rockstar e avrà all'interno della lista un gran numero di character con valore di evocazione basso, per sposarsi alla perfezione con l'abilità dell'alieno, che riporterà Shift 4, ovvero potrete esaurire 4 inchiostri per giocare questa carta su uno Stitch già presente in gioco, con la presenza della dicitura Adoring Fans, che vi permetterà di pescare una carta dalla cima del mazzo se impiegherete personaggi con costo pari a 2 o inferiore, esaurendoli subito dopo il loro ingresso in gioco. Che il numero di giocata medio sia abbastanza basso si comprende anche dalla curva di costo che evidenzia come questo archetipo abbia una sola cosa in mente, scattare. Infatti pescherete davvero tanto se vorrete utilizzare questo mazzo e la presenza continua di character che scenderà in campo sciamando vi permetterà di accumulare un gran numero di punti lore nel minor tempo possibile. Come suggerisce il nome del deck, metterete letteralmente il Turbo. Se poi vorrete giocare nella lista anche Ad e il Signore degli Inferi, potrete recuperare degli eventuali Stitch distrutti in battaglia, avendo sempre una fonte di ciclo pronta all'uso. Inoltre il Turbo potrà essere una scelta validissima anche per i nuovi giocatori, non avendo dinamiche eccessivamente complesse, dato che una volta fatto entrare in campo lo Stitch e fatto sopravvivere ovviamente, potrete dare il via agli ingranaggi ben oleati di questo deck. E in descrizione vi lascerò la lista che personalmente ho trovato e testato proxando le carte. E posso assicurarvi che, se lo farete anche voi, vi divertirete senza dubbi. In più, sul sito dove sarà presente la profile troverete una moltitudine di deck pronti per essere copiati ed utilizzati, così da permettervi di allargare i vostri orizzonti riuscendo a comprendere appieno a quale inchiostro o binomio di inchiostri apparterrete maggiormente. Signori, prima di procedere volevo comunicarvi che i prodotti di Lorcana sono reperibili su Fantasia Store, dove il giorno prima della data di uscita il vostro ordine verrà spedito e in 24-48 ore riceverete il pacco direttamente a casa vostra. In più, inserendo il codice appena apparso in sovrimpressione potrete usufruire del 5% di sconto alla cassa e se utilizzerete il referral link per gli acquisti aiuterete anche il canale a livello economico. Vi lascerò tutto in descrizione. Quindi dopo aver visto quello che secondo il mio personale parere potrà rappresentare uno dei deck top tier quando il gioco uscirà in mercato, vediamo assieme la combo che da sola potrà farvi raccimolare la metà dei punti lore necessari che vi serviranno per potervi portare a casa l'incontro. La combinazione di carte rappresentata da Vaiana e Mulan del Gift Set sarà da tenere d'occhio con molta attenzione. Per massimizzare al meglio questa sinergia dovrete possedere sul campo di battaglia altri due character, che in questo caso a puro scopo esemplare saranno Heihei e Stitch a costo 1. Una volta giocate le principesse sul terreno, nel vostro prossimo turno potrete combattere con Mulan che se distruggerà un personaggio avversario innescherà il suo effetto Lead by Example che aggiungerà un ulteriore punto lore ad ogni character alleato in campo. Quindi potrete raccogliere con Vaiana che vi farà ottenere 4 lore, 3 propri più uno derivante dall'abilità della principessa guerriera, attivando attraverso il questing il suo effetto We Can Fix It, che vi consentirà di ripristinare in stato di pronto tutte le carte con tratto principessa sotto il vostro controllo, vietandogli in questo caso però di questare per il resto del turno. Ma nessuna paura, dato che con Mulan potrete combattere nuovamente attivandone ancora l'effetto, assegnando un ulteriore punto lore ad ogni personaggio proprio, che per la fattispecie di Heihei e Stitch vedranno la bellezza di 3 icone a testa. Quindi non vi resterà altro da fare che esaurirli entrambi permettendo loro di questare per accumulare ulteriori 6 lore, che in aggiunta ai 4 raccolti già da Vaiana vi porteranno ad un totale di 10. Niente male per un singolo turno di gioco, non vi sembra? In più calcolate che sia per il turbo che per questa sinergia potrebbero a supporto rivelarsi elementi che ancora non conosciamo, utili a rafforzarle entrambe rendendole ancora più temibili. Per questo motivo penso che lo Stitch possa rappresentare un top di gamma, dato che solo con le carte svelate al momento già sta dimostrando di essere devastante. Per fermare queste due macchine da guerra macina lore, comunque ci saranno elementi già mostrati, come Maleficent sia nella sua versione creatura che sotto forma di azione con Dragonfire che distruggeranno un personaggio scelto sul terreno, Elsa che esaurirà un character che potrà subito dopo essere attaccato, Fire the Cannons che infliggerà due danni e molte carte ancora che arriveranno presto per moderare una mole sempre più crescente di combinazioni spacca meta. Aspettiamo quindi maggiori informazioni riguardanti le nuove anteprime che sono certo regaleranno grandi sorprese pronte per essere utilizzate nel migliore dei modi così da consentire ad ogni Luminar di raggiungere il ventesimo punto lore prima del suo avversario. E voi avete già provato qualche deck o sperimentato nuove sinergie tra carte? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.